Il governo Musumeci ha approvato la delibera proposta dall'Assessorato alla Salute per la riorganizzazione delle strutture commissariali delle ASP provinciali e per l'istituzione delle unità di continuità assistenziale. Il provvedimento prevede prima di tutto una proroga dell'incarico conferito ai commissari fino al 31 dicembre 2022, pensata con la finalità di garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi collegati alla gestione della pandemia, quali la campagna vaccinale, l'assistenza domiciliare in coordinamento con i medici di famiglia, il tracciamento delle persone positive al Covid-19. In secondo luogo, in attesa che il Ministero dia attuazione al provvedimento di istituzione delle unità di continuità assistenziali, una per ogni distretto, la delibera proroga l'attività dell'EUSCA in quanto strutture fondamentali per l'attuazione sul territorio dei servizi assistenziali finalizzati al contrasto del Covid-19. Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, il quale ha spiegato che tali decisioni servono a dare continuità al lavoro svolto nei due anni di pandemia.